Pubblicato un bando comunale a Sassari per individuare 20 madri di quartiere e figure in grado di coinvolgere altre donne o interi nuclei familiari e facilitare l'accesso al sistema dei servizi sociosanitari dei cittadini italiani e stranieri per prevenire e contrastare l'esclusione delle famiglie svantaggiate. Le donne selezionate parteciperanno a un percorso di formazione di due mesi a cui seguirà un'attività di laboratorio di quattro mesi. L'esperienza proseguirà quindi con un periodo di affiancamento di dieci mesi, il tutto mirato all'acquisizione di competenze informatiche di lingua italiana, sul fenomeno dell'immigrazione e sul sistema dei servizi socioeducativi e sanitari. Per le donne di quartiere che saranno inserite nel progetto di innovazione sociale e sviluppo di continuità è prevista un'indenità di 4 euro per ogni ora di frequenza. Possono partecipare alla selezione delle donne maggiore in italiane e straniere residenti nel Comune di Sassari da almeno due anni con un'ISEE inferiore a 9.360 euro e per le straniere con regolare permesso di soggiorno. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13 del 9 dicembre via PEC all'indirizzo protocollo-pec.comune.sassari.it via raccomandata all'indirizzo Comune di Sassari settore politica e servizi e coesione sociale in via Zara 2 oppure a mano il mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12 negli uffici del servizio sociale in Piazza Santa Caterina. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici sempre di Piazza Santa Caterina 25 telefono 079 27 95 56 oppure 27 9733. Il progetto è finanziato con i fondi degli interventi territoriali integrati.